e mi trovo qui con alexandro del monte ecco oggi va bene siamo vittoria siamo qui la prima partita di ritorno senti vuoi raccontarci ciao buongiorno a tutti oggi era la prima del ritorno abbiamo giocato contro il b side era sicuramente una partita diciamo un po difficile perché arrivavamo siamo stati fermi veramente tanto non ci siamo allenati erano un po giù di condizione però abbiamo vinto siamo contenti e speriamo di continuare a vincere più che altro se ti siete anche allenati durante la pausa natalizia in vista anche della stagione di ritorno anche per i playoff eccetera allora c'è dei giocatori pigri ti devo dire che da dicembre a gennaio non hanno fatto praticamente un cazzo niente zero hanno ricominciato un po a febbraio infatti li vedi che sono tutti morti e appunto oggi eravamo occupati più per la condizione che per il calcio in sé per sé però dai ce l'abbiamo fatta senti un giudizio sia avversario in positivo chiaramente è una buona squadra è sempre un po ostica soprattutto in casa loro qui però abbiamo giocato a san francesco dove abbiamo tenuto un po meglio il campo però secondo me è una squadra che può fare bene se vuole può fare bene noi lo ringraziamo per la disponibilità e in bocca al lupo per la prossima la prossima la giocate qua qua contro il pesce d'oro a mesci dei match perfetto e noi ci raggiungiamo settimana prossima perfetto qua è tutto